6 consigli per detocinare l'organismo Assumi fibre, facilitano il transito intestinale e aiutano a ridurre l'assorbimento di zuccheri e grassi. Consuma omega 3, riducono l'accumulo di grassi nel fegato e stimolano la rigenerazione cellulare. Elimina le farine raffinate perché stimolano la produzione di insulina che favorisce il deposito dei grassi. Bevite verde e tisane per favorire l'idratazione, evita il caffè, le bibite e gli alcolici. Consuma 5 pasti al giorno, colazione, pranzo e cena, più 2 spuntini con frutta secca come mandorle, noci e nocciole. Riduci il sale perché favorisce la ritenzione idrica, insaporisci i cibi utilizzando le spezie aromatiche. Seguimi per altri consigli. Ciao! Grazie a tutti!